io lo dico ma che non eh perchè porca voglia no c'è un altro orso l'unico ma che cazzo di posto è mai questo ci siamo tutti no manca Pietro ma lì c'è la guerra mondiale con Giorgio dove? se per il Pietro non è una questione ma chi stiamo qui? lì dietro Giorgio guarda Giorgio ora mi devo che Giorgio perchè non ti muovi? perchè mi dovrei muovere ah ma si è cresciato ancora no sono qua muoviti perchè mi dovrei muovere io voglio oh donna ah non si sa mai cazzo via Giorgio dove mi essi segno eccolo Maltasaro ci stanno avvicinando il cane sta morendo il cane il cane sta morendo ma ottengo la kill per caso veruno lo ottengo ciao quanti orsi unici ci sono a te troposco un adult summon cooperator ma perchè? che cazzo vuol dire? mi fai entrare e poi butta via Pippi cosa? butta via Pippi potenziali 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 oh no 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 si no no prima pietro facciamo allora vediamo un po' qui ok qui c'è quello quindi segnavolo e poi qua qua naturalmente qui che accanto stai venendo Giorgio? eh Pietro? mhm questo oh oh dove hai questo Giorgio? comunque mi si è aperto sto portale qua eh cosa dove ti porta? eh non lo so ho paura di andarci Giorgio dove sei? sta arrivando un eh si si vi ricordate a te troposco ci sono delle caverne per caso? no te troposco io non levo si si ce n'è una ce n'è una ce n'è una ma come una? si si ce n'è una guarda la mappa eh non mi ricordo dove ce n'è una ah si eh c'è una rovina poi si la rovina ok no 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 c'è una caverna c'è una caverna c'è una caverna c'è una caverna jason che cazzo fai da sopra? se cadi tu qui eh oh no jason non ha causato oddio che cazzo è? ma la prima volta siamo venuti qua non succedono queste cose niente io sento dietro eeeh o mi ha preso pietro a me non mi sta mirando io sento nomade 5 nomade 3 oh bello a me non mi sta una colpa allora che facciamo uccidiamo questi qui o li lasciamo stare io non figo questo scudo di lazzurite cosa fa? altro lo dico ecco l'esplosione qui praticamente ha uno scudo di dimensione media e vabbè l'abilità è parata grazie giro giro tonto raffigura l'albero madre sullo sfondo di un cielo blu bello cazzo è questo? uno attivo il gioco eh lo so lo vedo se non mi aiutate aspetta vai io faglio un mi hanno dato il loro scudo vai ora e niente ce l'ha e dove sarebbe che sta salendo che qui in mappa non vido mi rovino ok se trovi un albero agenzurato perchè sull'aspirito dell'alba trova un albero oh ma ha dato il suo Elmo eeeh lo so l'ho trovato ma l'orso runico mi ha rotto il cazzo e non mi fa più spawnare l'omino che cammina perchè è vero che vuole neeeh l'orso runico però ha detto no prova ammazzarlo eh l'ho già ammazzato non mi fa spawnare l'omino che cammina brava cosa ah l'omino io l'ho seguito l'omino vada grazia vada grazia devi caricare la allora 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 ti devo fallare lì ti devo fallare lì ti devo fallare lì ha ha ha